foggia calcio è arrivata la sentenza il foggia rimane in serie b non va più in serie c meno male la prima soddisfazione l'abbiamo avuta l'allenatore ho già lavorato direttore sportivo oppure siamo in serie b l'altra cosa è che abbiamo avuto una penalizzazione di 15 punti di cui 2018 2019 dobbiamo lottare per rimanere in serie b la serie a ci vuole un altro anno di cui è una bella notizia così il nuovo mister e direttore sportivo possono creare un bel gruppo dell'anno prossimo 2018 2019 nuovo campionato fare più punti possibile per rimanere in serie b per la serie a ci dobbiamo ancora rinunciare se ne va un altro anno 2019 2020 della serie a importante che non siamo retrocessi in serie c quella è la cosa più importante sempre forza foggia